Mi chiamo Nico De Mola, vengo da Bari e sono militare dell'aeronautica militare italiana. Io ho avuto una forma gravissima di paradontite e quindi sono stato perfetto a togliere tutti i denti perché altrimenti sarebbero inevitabilmente caduti. Perché in Italia avrei speso almeno il doppio di quello che ho speso qui. Ho scelto Viaggiare e Sorridere perché ho fatto una mia indagine conoscitiva qui a Tirana e fra tutte le cliniche che ho visitato personalmente Viaggiare e Sorridere è stata quella che oltre all'accoglienza ma la professionalità, gli ambienti, il calore umano che ho percepito qui in altri posti, in altre cliniche di Tirana non è stata la stessa cosa. Io sono arrivato qui con la voglia di fare un intervento da 6 più 6, 6 impianti più 6 impianti e invece poi grazie alla competenza anche alle attrezzature che in altri posti non ho visto mi è stato consigliato di fare un 8 più 8. Quindi ho 16 impianti in titanio con delle corone in zirconio e ceramica e questo è il mio risultato perché torno a sorridere dopo tanti anni, non dico quanti ma tanti anni. Per un lavoro simile io ho fatto anche dei preventivi in Italia e non scenderò nei dettagli. Voglio dire che c'è almeno il 50% di risparmio rispetto all'Italia, ma almeno il 50%. Beh, l'accoglienza ti vengono a prendere in aeroporto, come è successo a me, ti accompagnano, sono sempre disponibili per qualsiasi esigenza. I ragazzi dell'accoglienza quando non c'è attività in clinica sono disponibili per qualsiasi cosa. Io grazie a loro ho girato anche l'Albania, io ho potuto ammirare quelli che sono e la storia dell'Albania perché, insomma, essendo vicino i nostri dirimpetai è particolarmente interessante di vivere a Tirana perché è una città vividissima, è tutta a portata di mano ed è davvero una gran bella città a portata d'uomo. Grazie a voi. Grazie a voi.